Leonardo Cardo. Il soggetto della foto è Leonardo Cardo, un uomo maturo ritratto in piedi con un braccio appoggiato a una colonna di marmo, in un ambiente esterno con luce diurna. La colonna è detta del diavolo perché presenta due buchi in cui la leggenda vuole si siano conficcate le corna di Satana e si trova a Milano, davanti alla basilica di Sant'Ambrogio. Leonardo è nella parte destra della foto con l'obiettivo che è stato posto più o meno all'altezza del suo viso e che lo inquadra fino all'attaccatura delle gambe. L'uomo è voltato di tre quarti così che lo vediamo oltre che davanti per lo più nella parte sinistra. Leonardo è ritratto in piedi, tiene il capo inclinato lateralmente verso la sua spalla destra, il busto dritto, il braccio destro teso orizzontalmente verso l'esterno fino ad appoggiare il palmo aperto della mano sulla colonna che si trova nella metà sinistra della foto e della quale vediamo solo la parte centrale del fusto sulla quale si distinguono due buchi. Il braccio sinistro dell'uomo invece è piegato al gomito con la mano posata sul fianco. Leonardo è una persona di statura bassa e di corporatura robusta, ha un viso tondo, capelli grigi corti e radi sulla sommità del capo, una fronte ampia solcata da qualche ruga, occhi scuri che rivolgono all'osservatore uno sguardo diretto e vivace e un naso di forma piuttosto corta e schiacciata. La bocca circondata da un corto pizzetto grigio si apre in un largo sorriso al di sotto del quale sporge il doppio mento. Indossa una polo rosa a maniche corte e pantaloni scuri dei quali vediamo solo la parte alta. Lo sfondo della foto, alle spalle e sulla destra dell'uomo, è costituito da giardinetti con alti alberi frondosi e aiuole intervallate da vialetti asfaltati con anche un lampione, mentre sul lato sinistro della foto, dietro agli alberi, si intravedono degli edifici. Alcuni fasci di luce solare colpiscono gli alberi sullo sfondo e gli edifici sul lato sinistro, mentre Leonardo e la colonna alla quale si appoggia rimangono in ombra, seppure irradiati indirettamente dalla luminosità circostante. I colori prevalenti sono di tonalità chiare, in particolare il verde che caratterizza lo sfondo naturale e, in primo piano, il rosa luminoso della maglietta di Leonardo e il marmo chiaro della colonna su cui appoggia la mano. C'è stato un periodo in cui disprezzavo il mio corpo e allo specchio mi vedevo imperfetto. Avevo paura della gente per i loro giudizi, i loro sguardi che mi facevano molto male, mi sentivo un fenomeno da baraccone. Sono rinato a nuova vita seguendo un percorso di psichoterapia e dopo sei lunghi anni, con una nuova consapevolezza della vita, ho preso in mano tutte le mie forze interiori, autostima, umanità, mia forza di vivere e mi posso dire, io non devo cambiare di aspetto, ma voi potete cambiare il vostro modo di pensare. Ancora oggi allo specchio mi vedo imperfetto, ma nella mia unicità sono felice. Leonardo Cardo, per gli amici zio Leo, è nato a Legnano nel 1958 e abita a Milano. Sposato, è programmatore, ha lavorato in campo assicurativo ed è disability manager. Pluripremiato per il suo impegno nell'inclusione sociale, è basso di statura per l'acondroplasia, una malattia genetica rara caratterizzata da un mancato sviluppo armonico della cartillagine di accrescimento delle ossa lunghe degli arti. Il suo blog si intitola Il mio mondo dal basso verso l'alto. Nella homepage scrive Il sito è solo uno dei tanti spazi online dove Leonardo è attivamente presente per sostenere associazioni ed iniziative che hanno come minimo comune denominatore il tema dell'inclusione. Attualmente sta lavorando per un progetto di moda adattiva, abiti che possono essere indossati da persone con e senza disabilità, indipendentemente dalla taglia e dall'altezza.